L'Aventador S è il seguente dell'Aventador, un grande successo del Lamborghini. Abbiamo deciso, prima di tutto, di aumentare il potere, l'outputo del carico a 740hp e abbiamo presentato, per la prima volta, in un'auto di produzione, il sistema di raccoglioramento di Lamborghini e un sistema completamente nuovo di controllo del chassi, che chiamiamo LDVA. L'autputo del carico è un dolore del nostro carico e, per questo motivo, trattiamo in un modo speciale. Abbiamo il nostro V12 naturalmente aspirato, che è ancora possibile generare più potere di quello che era la versione precedente. Abbiamo avuto il 740hp con un'increzzo della efficienza volumetrica, un'ottimizzazione della fase di cam, e anche un'increzzo della velocità dell'engine. Ma anche lavoriamo con l'autputo del carico, con un software completamente nuovo che possono realizzare un miglioramento migliore tra l'autputo e l'engine. In questo modo, siamo capiti a rinforzare il miglioramento in modo strada e per avere un miglioramento più veloce e prezziato in sport e in corso. Il sistema di raccoglioramento che abbiamo applicato in Aventador S, prima di tutto, è un sistema che rinforzano tutte le funzionalità del carico. e abbiamo due modi diversi. Il primo è per la velocità normale del carico, che, a causa del movimento del controllo del carico con il fronte, può ridurre la base virtuale di circa 500 millimetri. In questo modo, il carico è molto più agile, è molto più reagente nel cambiamento di linee e nel cambiamento di dinamico del carico. In questo modo, il carico è molto più stabilo e puoi andare in una velocità massima, anche in una grande ruota che puoi trovare in una strada, o in alcune strada. In questo modo, il carico è importante poter controllare. Per questo motivo, abbiamo presentato un nuovo sistema che chiamiamo LDV-A, che è un sistema che, da un punto di vista elettronico, può controllare tutti i parametri del carico. Inizia dalla strada, dalla strada, dalla strada, dalla strada, dalla strada e dalla strada. Dopo, anche in ABS e SP, significa il controllo di traccia e il controllo di attrazione di ogni strada, può reagire in modo più veloce possibile, controllando tutto ciò che succede nel chassi. Questo significa garantire alla strada, che potrà realizzare la migliore performance del carico in modo più sicuro e sicuro possibile. Grazie a tutti.